Un anniversario importante per il Tribunale di Vasto che è stato istituito nello stesso giorno del Tribunale di Orvieto e speriamo non faccia la stessa fine. Infatti è quello che ho detto che può essere una data negativa però io penso che sia una data positiva, l'ho affiancato alla nascita della Costituzione che è di pochi giorni dopo e poi la sua entrata in vigore del 1 gennaio del 48. Speriamo di festeggiare i 70 anni della Costituzione e una permanenza più lunga del Tribunale di Vasto. La proroga ulteriore non è una soluzione evidentemente. Però è altrettanto vero che se può servire a creare un arco temporale maggiore per trovare una soluzione ben venga anche la proroga tenendo conto che poi però la politica una soluzione la deve trovare. Se vuole una soluzione, perché il Tribunale è comunque soppresso a una certa data, se bisogna tornare indietro questo lo deve fare la legge e quindi si deve trovare una soluzione politica piena da parte del Parlamento. Tra le tante iniziative che sono state illustrate in programma per l'anno 2017 ce n'è anche una che è dedicata all'Avvocato Vastese Fanghella, a cui lì è anche particolarmente legato. Questo mi fa molto piacere sotto un duplice profilo che dico in ordine così, non per dargli un rilievo maggiore. Uno dal punto di vista personale perché era un amico di famiglia e quindi c'era un legame diciamo al di là. Poi quando io sono laureato e mi sono iscritto all'albo dei praticanti, al registro penso si chiamasse registro, dei praticanti procuratori era lui il presidente del Consiglio dell'Ordine e quindi mi accolse quasi come un figlio. Però devo dire l'Avvocato Fanghella era di suo così, una persona molto paterna, molto affabile, una persona un po' di altri tempi. La seconda cosa che mi sembra importante è che al suo unanime riconoscimento come di un professionista di qualità si è affiancato proprio un riconoscimento ufficiale che è stato quello dell'elezione al Consiglio Nazionale Forense ed è stato l'unico Avvocato di Vasto ad essere eletto al più alto consesso che c'è per l'Avvocatura e credo che questo sia un riconoscimento importante per un foro che comunque è piccolo aver avuto una persona come l'Avvocato Fanghella e a far parte del Consiglio Nazionale Forense. Lei ha ricordato anche che per le donne non era permesso l'accesso all'attività da magistrato e anche a quella da avvocato? Per i magistrati, il primo concorso che ha consentito l'accesso alle donne è del 1963, quindi sono passati 53 anni e sono passati 15 anni dall'entrata in vigore della magistratura prima che le donne potessero entrare in magistratura quanto l'articolo 3 della Costituzione dice che i cittadini sono tutti uguali, le persone sono tutti uguali senza distinzione di sesso, razza, lingua e religione. Insomma, un'affermazione che ci è voluto un po' di tempo però, come ho anche detto, a dicembre dello scorso anno, cioè un anno fa, c'è stato il sorpasso e la magistratura ora è al 51% donne e 49% uomini e credo, come ho detto, che questo è un trend che si manterrà perché almeno nei prossimi anni escono molti più uomini per pensionamento, per dimissione, eccetera ed entrano più donne anche perché le donne comunque nell'ultima decina di concorsi comunque vincono più donne che uomini in una percentuale che sta tra il 55 e il 60%, quindi una magistratura femminile diciamo che ha recuperato negli anni, ha recuperato senz'altro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.